Musica I organizzatori, i responsabili, gli animatori, è una bella cosa vedere come in momenti un po' difficili, con condizioni veramente strane, siamo riusciti, siete riusciti a mettere in piedi un'estate in cui è bello incontrarsi, si va a casa contenti, si aspetta la giornata di domani, così come una nuova avventura e quindi ecco è una bella cosa, io girando gli oratori insieme con il don Stefano si vede proprio questa gioia di fare qualcosa di straordinario visto che quest'estate è veramente straordinaria. Quello che c'è in cielo c'è anche sulla terra, tanto è per me che io l'ho scelto come motto, sapete che ogni vescovo può scegliere un motto, cioè una frase in cui cerca di riassumere la cosa più importante che vuol dire, ecco e io ho scelto questo motto, la terra è piena della gloria di Dio.